Quando ci hanno confermato che andava tutto bene sia per la mamma che per la bambina c'è stato un grosso sospiro di sollievo, ci siamo rilassati, c'è stato un bel abbraccio tra la mamma e l'equipaggio, quindi anch'io, è stata una grossa soddisfazione, ci siamo liberati di un peso, c'è stata un'emozione enorme. È nata in ambulanza la piccola Rayana, terza figlia di una coppia di macedoni residente a Ponte Appoppi Alto Casentino, è accaduto in un sabato di luglio che per Luca Pancioni, infermiere professionale del 118 a Retino, si è trasformata in una prima esperienza indimenticabile. L'allarme è scattato alle 22.30 dall'abitazione, iniziano le contrazioni, arriva l'ambulanza dei volontari di Poppi che poi si incontra a Rassina con un'ambulanza infermierizzata in arrivo da Subbiano. Avrebbe dovuto portare la donna al San Donato, ma Rayana aveva fretta di nascere. Quando sono arrivato lì ho valutato la mamma, era già dilatata, però in quel momento non c'erano contrazioni, quindi abbiamo provato a partire e a dirigerci verso Arezzo. Poi dopo pochissimi chilometri la mamma ha avuto una contrazione, si iniziava a vedere la testa, quindi ho capito che ci siamo dovuti fermare. La mamma ha iniziato a spingere, le contrazioni c'erano, è uscito prima la testa, poi l'ho incitata a spingere ancora, ho fatto la manovra per ruotare le spalle e ho fatto uscire il bambino. È stata un'emozione unica perché non mi era mai capitato in tanti anni di lavoro. Un parto avventuroso, non c'è che dire, è avvenuto lungo la regionale 71 al bivio di Vogognano, poco dopo Santa Mama. Dall'abitazione della Coppia fino ad Arezzo ci sono 40 chilometri. Questo è il secondo parto in ambulanza nel 2018 nella provincia aretina. Sì, ci sono tanti chilometri, ma è per questo che servono le reti dell'emergenza territoriale, non solo per quello che si pensa per i traumi o per gli infarti. Le reti servono per tutti i tipi di patologie e anche la nostra preparazione spazia a 360 gradi per garantire che la rete funzioni. Noi non si sapeva che... perché aveva appena fatto la visita qua. Quando? Sabato, sempre sabato. Ci hanno detto che ancora ci vuole un po' di tempo, quindi non si aspettava quella sera. Che cosa ha pensato quando gli hanno detto che insomma era andato tutto bene, che la bambina era nata e che sua moglie stava bene? Sì, ero contento, almeno basta che stavano tutti e due bene.